Esultano gli ambientalisti all'indomani della notizia sull'emendamento votato dal governo alla Camera che ripristina il limite delle 12 miglia a tutte le attività di ricerca e coltivazione di idrocarburi. La battaglia contro la petrolizzazione, quella valza a tante manifestazioni e mobilitazioni, procede con una buona notizia. Non è finita la guerra, a me piace usare questi termini, però è solo un passo importantissimo, storico per l'Abruzzo in un lungo percorso, in un lungo cammino che ci deve portare a uscire dal mondo degli idrocarburi anche perché il nostro pianeta sta morendo addirittura, secondo gli scienziati, a causa dei cambiamenti climatici. Quindi noi dobbiamo combattere tutti i giorni, ma è un grande segnale ai cittadini per dire che chi si impegna poi ottiene grandi risultati e anche qualcosa per cui mi viene a dire vale la pena vivere e cioè essere contenti di salvaguardare la propria terra e anche la propria comunità. Cosa è stato determinante secondo voi? L'impegno civico, l'impegno anche del singolo cittadino, anche da quello che ha solo condiviso un po' su Facebook, sui social, fino ad arrivare agli attivisti che si sono andati da fare tutti i giorni. Chi ha potuto dare un proprio contributo è stato non solo ben accetto, ma è stato fondamentale in questa lotta. Davide può battere egolia, così dicono oggi gli addetti ai lavori. In questa lunga controversia, ancora non scampata, oggi una menzione speciale va a chi ha contribuito come parte attiva. Devo dire sì, altresì, che c'è stato il contributo, questo lo devo dire per onestà, di Giovanni Legnini. Giovanni Legnini è stato determinante in questa partita. Noi siamo in contatto con lui da oltre due mesi, è lui che ha cuscito tutto il progetto, è lui che ha dato l'impulso più determinante a questo grande risultato. Grazie. Grazie. Grazie.